Mi chiamo Ago e ho tre passioni nella vita. La mia famiglia, il tatuaggio e le moto. Da molti anni lavoro nel mondo del tatuaggio, mi occupo di organizzazione anche di eventi legati al mondo del tatuaggio e da parecchio faccio parte dell'organizzazione della Milano Tattoo Convention che quest'anno arriva al ventesimo anniversario. Da qualche anno l'organizzazione di Milano Tattoo Convention punta al lato artistico del tatuaggio per legare il tatuaggio all'arte contemporanea riconosciuta. Da qui nasce una collaborazione nella diciannovesima edizione con Vans e nasce il progetto Vans in Carta. Nella ventesima edizione sarà ancora più forte, più grande questo messaggio coinvolgendo alcuni tra i più importanti tatuatori del mondo. Quest'anno a Vans in Carta parteciperanno dieci artisti di fama internazionale. Il mio compito è stato quello di selezionare questi artisti in base al loro stile, tutti diversi uno dall'altro, le loro capacità artistiche e la loro tecnica nel mondo del tatuaggio. Il mondo del tatuaggio negli ultimi anni si è spostato tantissimo sul lato artistico. Sempre più pittori o comunque artisti con basi scolastiche si sono avvicinati alla tecnica del tatuaggio. Nasce questa collaborazione con Vans perché Vans è arte a tutti gli effetti, è l'espressione creativa che più si avvicina all'arte del tatuaggio e all'arte contemporanea.